. Rivendevano capi di abbigliamento prelevati dai cassonetti lungo le strade della città. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia Municipale è impegnata in un'operazione nei campi Rom di Napoli per contrastare il commercio di abiti, utensili e oggetti di scarto recuperati tra cumuli di rifiuti e in condizioni di degrado pericolose per la salute. Tonnellate di prodotti sono state sequestrate dagli uomini del generale Sementa, 150 gli agenti in campo, e poi distrutte dai compattatori di Asia per evitare che finissero in circolazione prive di alcun trattamento igienico-sanitario. Nel corso dell'operazione sono state inoltre requisite più di 500 carrozzine autorubate e un centinaio di veicoli senza targa e senza assicurazione utilizzati per il trasporto della merce rivenduta in strada. Realizzate con lamiere e materiali di fortuna, le baracche sono come discariche a cielo aperto dove trovano rifugio in condizioni igieniche definite impressionanti un gran numero di persone soprattutto provenienti dalla Romania e dopo la chiusura del campo rom in viale della Maddalena crescono gli insediamenti nella zona di San Pietro. Gli agenti della Municipale sono intervenuti anche in via Marina nel parco della Marinella per portar via passeggini e oggetti recuperati dalla spazzatura.